Appena abbiamo saputo di questo gesto straordinario e per questo ringrazio la sensibilità delle nostre insegnanti maestre, abbiamo voluto fare un gesto simbolico, cioè insieme appendere questa immagine al balcone di Palazzo Civico, perché in modo simbolico stiamo dicendo che questo è il messaggio di tutta la città, abbiamo bisogno di questa solidarietà e quindi speriamo in qualche modo anche noi come città di contribuire alla diffusione del messaggio simbolico che rappresenta e anche magari che qualcuno possa procedere allo stesso modo e appendere sul proprio balcone uno striscione con un messaggio d'amore. È un messaggio positivo che arriva dalle nostre scuole, quindi arriva dalle nostre insegnanti, dalle nostre famiglie per rassicurare i nostri bambini, per dare loro un messaggio di fiducia e di speranza che tutto andrà bene. Mi chiamo Marina Bruno, sono un'insegnante della scuola dell'infanzia di via Lodovica e a noi è venuta in mente questa iniziativa, l'abbiamo girata a tutti i bambini della nostra scuola di fare uno striscione e appendere le loro case. Ovviamente io l'ho fatto per la nostra scuola, dove speravamo con questo che potesse diventare un virale e un virus più bello, più grande, più di amore di quello del coronavirus che ci sta facendo così tanto male.